In molti comuni, soprattutto nei capoluoghi, il Partito Democratico ha presentato dei candidati a una proposta politica di quella città, a mio avviso molto buona. Io penso a Messina, a Trapani, a Catania, a Riproponia Menzo Bianco e soprattutto abbiamo lanciato un messaggio all'elettorato dopo l'abbatosta del 4 marzo. In questi comuni stiamo presentando progetti unitari di centrosinistra con candidati credibili che sono molto in sintonia con quella popolazione e io sono convinto che da qualcuna di queste realtà può venire fuori una bella sorpresa. Una cosa è certa, il Partito Democratico in qualche modo deve rinascere da queste ceneri? Per rinascere il Partito Democratico ha bisogno di tre cose fondamentalmente. Un congresso vero e profondo che ridiscuta di temi e di cosa vuole fare per rientrare in sintonia col proprio elettorato. Di ritornare a essere un progetto di parte. Il Partito Democratico deve ricominciare a rappresentare i segmenti della società che da forza di sinistra, in particolar modo quei segmenti che sono più nelle fasce della sofferenza, e terzo deve avere il coraggio di mettere in campo una nuova classe dirigente, ma non una nuova classe dirigente nel senso di una nuova rottamazione. Quella classe dirigente che in questi anni è cresciuta nelle periferie, pensa ai sindaci, ai segretari di circolo, ai presidenti di circoscrizione, a quella classe dirigente che si è formata secondo i canoni della politica ma che è rimasta per troppi anni schiacciata fra l'ossessiva presenza dei fratelli maggiori e un'ingiustificata ambizione dei fratelli minori. Eppure proprio da questi centri minori, dalla base, è partito il voto in favore dei 5 Stelle? E questo è un campanello d'allarme che ci deve fare attrezzare di conseguenza. Proprio perché i 5 Stelle hanno generato una speranza che secondo me si trasformerà presto in una delusione per questo elettorato, a quell'appuntamento dobbiamo fare trovare un partito che dimostra che ha capito la lezione e che è pronto a ridisegnare un futuro per questo Paese.